Un suicidio o una perdita di gas? E' questo il dubbio principale dei periti nominati dalla procura di Catania sulla violenta esplosione avvenuta la scorsa sera in una palazzina tra via Garibaldi e via Sacchero, dove adesso all'ingresso vi sono delle grosse travi di legno posizionate per vietarne l'accesso. A perdere la vita i due vigili del fuoco Dario Ambiamonte di 40 anni e Giorgio Grammatico di 30, giunti in soccorso del 75enne Giuseppe Longo, anche lui deceduto, che viveva e lavorava all'interno dell'abitazione. Gli investigatori dovranno adesso accertare le dinamiche della deflagrazione. Dai primi sopralluoghi effettuati nella notte, sembrerebbe infatti che l'esplosione sia avvenuta dall'interno verso l'esterno, come dimostrerebbe la porta dell'edificio, sbalzata per alcuni metri e poi caduta su un'auto parcheggiata. Gli agenti si interrogano sul perché l'anziana vittima non abbia aperto nulla all'interno della casa una volta avvertito l'odore di gas, motivo per cui, oltre all'ipotesi di un suicidio, non esclusa quella di un malore causato dall'esalazione del gas che avrebbe colpito il 75enne. La squadra, composta da cinque pompieri, era arrivata a seguito dell'allarme lanciato da alcuni vicini su una presunta fuga di gas. Giunti sul posto, stando a racconto di alcuni testimoni, tesi ancora ad accertare, uno dei vigili del fuoco avrebbe utilizzato una motosega per tagliare la porta, ma una volta a contatto con il catenaccio, le conseguenti scintille avrebbero innescato l'esplosione che ha ucciso Grammatico e Ambiamonte. Gli altri due pompieri, di cui uno in gravi condizioni, si trovano all'ospedale Garibaldi in prognosi riservata, mentre l'altro componente della squadra risulterebbe illeso seppur sotto shock. A seguito dell'esplosione, il corpo del 75enne è stato ritrovato completamente carbonizzato, non escluso dunque che venga disposta l'autopsia sul corpo delle tre vittime.